Come va? Le tue gambe, illuminate dalle luci di sicurezza, sono fantastica. Grazie. Se sei venuto a farmi la predica per la questione fuori mancese, rimandala. Quando pensi di comunicare al marito che deve dire addio a sua moglie? Non ho stabilito un orario. Oltre che, per curiosità, hai qualche altra ragione per tenerla sotto bypass? Il marito della paziente la preferisce e non morta. O vuoi un finale da fiaba per il giovanotto che ha attraversato l'oceano per la moglie? Non è una recita, non mi interessa. Stacca la spina. E se potessi guarirla, ma non lo sapessi ancora? So che ti interessa. Non mi interessa. Davvero, non mi interessa. Le mie motivazioni sono vere. Se facciamo l'autopsia e scopriamo... Se avessi avuto quell'idea folle, l'avremmo salvata. Il marito potrebbe arrabbiarsi. Hai fatto quello che potevi. È ora di mollare. E' ora di mollare. Non mi interessa. Ma dei minuto potrebbe arrabbiare. Non mi interessa. E' ora di mollare. Grazie a tutti.